Questa mattina ho parlato con l'assessore Cesetti della Regione Marche, al quale ho detto la mia opinione sul risultato del referendum di fusione tra il comune di Montemaggior al Metauro, Saltara e Serungarina, che prenderebbe il nome di Colli del Metauro. Io sono sinceramente contrario a questa fusione. Ho atteso l'esito del referendum per rispettare la volontà dei cittadini e per non alterare in qualche modo un dibattito che doveva avvenire in modo democratico e senza, secondo me, invasione di campo. I referendum che portano alla fusione dei comuni devono essere referendum che sono fortemente voluti dai cittadini. In questo caso Montemaggior al Metauro, con un forte 65%, ha detto no. C'è anche un'altra motivazione, che l'affluenza al voto di Montemaggior rispetto agli altri due comuni è molto più alta e quindi quella espressione di voto contraria deve essere ascoltata, ci deve essere rispetto per questa decisione e secondo me noi, come consiglieri regionali, oggi dobbiamo fermare questa fusione.